Minacce, aggressioni fisiche e stalking. La polizia di Stato affoggia a disposto il divieto di avvicinamento nei confronti di due uomini, un 35enne e un 55enne, accusati, entrambi di maltrattamenti. Il 35enne, privo di un'occupazione stabile e dedito all'abuso di alcol, riversava la propria rabbia sulla moglie minacciandola e aggredendola fisicamente. Nel dettaglio lo scorso fine febbraio, l'uomo imprede ai fumi dell'alcol, la picchiata, la presenza dei figli minori e la sera stessa la donna decise di abbandonare il tetto coniugale assieme ai figli. Inoltre, nei giorni successivi tramite il social network Facebook, aveva minacciato una collega della moglie. Violenze soprattutto verbali invece per l'ex moglie di un 55enne che veniva perseguitata con tantissime telefonate. Durante le conversazioni, l'uomo minacciava di ritorsioni anche fisiche nei confronti della donna, qualora avesse frequentato altri uomini. Il 55enne, già a marzo 2017, fu allontanato dal tetto familiare perché si rese protagonista di episodi di violenza e minaccia nei confronti sempre dell'ex moglie.